Grazie a Pino Boero di questo appassionato sintetico e lucido intervento su questa parte della fiaba tra testi e riflessioni. Faccio una breve inversione di programma perché do subito la parola a Nicolò De Mari che è qui nonostante il suo torcicollo e non può resistere fisicamente oltre. Ci teneva a essere qui e quindi prima di Carla Ida Salviati gli do brevemente la parola ma come lo vedete sembra uscito da un quadro di Van Dyck ma è in versione moderna ma non con tanto piacere credo da parte sua. Io ringrazio Stefano di aver raccolto il mio segnale d'allarme telefonico mi ha subito risposto mi ha detto va bene ok ti infilo perché non riesco a resistere più di tanto. Però una serie di ringraziamenti intanto a questo invito mi fa molto piacere essere presente qui con una brevissima testimonianza sul mio rapporto con Beatrice Solina Sdonghi anche per dire che ho avuto la fortuna nonostante la mia giovane età di editore non parlo della mia età anagrafica eh di incontrare tutte e due le le grandi signore no della della narrativa ligure ma direi della narrativa nazionale perché sono due nomi da Camilla Salagoraggi a Bertice Solina Sdonghi tra l'altro come sapete tutti amicissime tra di loro e ho avuto la fortuna grazie a due grandi amici del cannetto cioè Stefano Verdino e Massimo Bacigalupo di incrociare le politiche entrambe e nel rapporto con Beatrice Solina Sdonghi per certi versi di essere un po' in un certo senso l'ultimo capitolo della loro della loro della sua bibliografia perché eh vita alternative eh di cui abbiamo di cui il professor Sabato ha parlato dell'anello di Gigi che è contenuto in questo volume è di fatto l'ultima opera di Beatrice Viva diciamo così come Anne Bronte è stato eh la gemella minore inedito fino a quel momento è diciamo anche quello un po' l'ultimo capitolo anzi dovrò muovermi con ci dovremo muovere con Wikipedia che ancora non registra la presenza la presenza di questo saggio registra la presenza di vite alternative non indica invece l'uscita l'uscita di questo volume volume che ha avuto sfortuna indubbiamente perché è cascato in pieno in pieno covid non ha avuto mai una presentazione io spero che prima o poi si riuscirà a mettere in piedi eh la presentazione di questo libro che è una diciamo la biografia spirituale di questa sorella a lungo considerata un po' la 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 minore la gemella minore delle la gemella minore delle bronte con un'introduzione di 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 Massimo Bacigalupo e una lunga una raccolta piuttosto piuttosto corposa di traduzioni di di poesie di 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 Anne Bronte e anche qui con un ringraziare ancora Massimo perché ci ha seguito molto nella nella correttezza della della riproduzione dei test eccetera eccetera ehm non vado molto oltre a questo vorrei soffermarmi un attimo su quella che è stata per certi versi in entrambi i casi una redazione un po' particolare perché perché la 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 storia di Vita Alternative è una storia di un dialogo senza senza essi mai visti in faccia io non ho mai avuto modo di conoscerla era già in condizioni diciamo di salute che non le consentivano né di uscire ma nemmeno di di ricevermi diciamo di avere un colloquio diretto e quindi eh la la figlia Anna che è qui che saluto molto volentieri con cui poi vorrei dire due parole ehm ha seguito è stato un palleggio molto molto intrigante molto molto interessante c'era al di là di 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 Anna che veniva regolarmente da noi in casa editrice a riferirmi quello che Beatrice diceva io facevo i miei appunti e lei spesso rigorosissima non non si muoveva di un centimetro rispetto a quella che era la sua in alcuni casi invece devo dire mi ha anche mi ha anche mi ha anche seguito ed era un palleggio con un qualcuno che non che non conoscevo che non avevo mai visto di cui non avevo mai sento nemmeno la voce e che mi veniva riportato eh e però è stata un un'esperienza un'esperienza molto bella molto viva molto molto forte dall'altra parte il secondo libro è per certi versi con qualcuno che non che non c'era più quindi in tutti e due i casi è stato un un colloquio un colloquio un po' particolare io mi fermo qui un po' perché eh faccio fatica un po' perché mh ho interrotto lavori più seri e e e un po' perché non credo che la mia testimonianza possa andare molto oltre questo vi ringrazio grazie a tutti grazie grazie a Nicolò che anche appunto prima di rientrare nel suo quadro e se centesco appunto ci ha raccontato questo episodio anche di questo incontro particolare con una significativa mediazione da parte di di Anna Solinas e continuiamo allora il nostro percorso ritorniamo quindi alla letteratura per l'infanzia ora è Carla Ida Salviati storica della letteratura per l'infanzia che ha pubblicato vari volumi tra cui raccontare destini la fiaba come materia prima dell'immaginario da Inaudi la biblioteca spiegata gli insegnanti il primo libro non si scorda mai e nuove edizioni romane questi da da giunti che ci parlerà appunto la scrittura mimetica di Beatrice Solinas Donghi nella narrativa per bambini e ragazzi allora credo di dovere qualche spiegazione di questo titolo che ho dato a questo mio brevissimo sguardo sulla scrittura di Beatrice Solinas Donghi che ricordo con molto piacere ho scritto ho dato come titolo la scrittura mimetica di Beatrice Solinas Donghi perché mimetica ho inteso questo aggettivo che un aggettivo che può essere usato in tanti sensi salsi significati intendendo soprattutto la scrittura di imitazione la scrittura che comporta in qualche modo un nascondimento la scrittura che comporta spesso un camuffamento e che è tipica della produzione per i bambini e i ragazzi della Donghi si configura quindi come un gioco il gioco tra l'autore e il lettore giochiamo a fare una fiaba giochiamo a scrivere come Dickens giochiamo ed abbiamo l'appena citata Boero a fare come nella novella tradizionale ad inventare una fiaba che ne contenga altre sette giochiamo con la scombinatoria si diceva di Calvino e quindi ecco che abbiamo le fiabe incatenate tutti gli intrecci possibili e immaginabili però pur ammettendo questo e pur cercando di giustificare questo aggettivo scrittura mimetica è proprio anche attraverso questa che la Donghi elabora una scrittura mimetica è proprio anche attraverso questa che la Donghi elabora uno stile personalissimo non si confonde è proprio con l'uso della sua notevole cultura che costruisce uno stile riconoscibilissimo è proprio sempre lei ecco vediamo la prima dia la domanda che cosa lega e collega nella Donghi la parte per adulti quando la Donghi scrive per adulti con quella per i piccoli c'è una vera cesura come potrebbe apparire come ho letto in tantissime recensioni sono due autrici diverse in effetti ci sono elementi per poter ipotizzare una cosa del genere ma io non la penso così per modesta che possa essere la mia lettura non vè cesura tantomeno c'è contrapposizione al centro resta sempre il femminile scavato con profondità in quei racconti dove sembra possiamo andare avanti grazie se va avanti lei mi toglie un pensiero grazie scavato con profondità in quei racconti dove sembra non accadere mai nulla è una delle caratteristiche dei racconti per adulti della Donghi è proprio questo sembra che non avvenga nulla mentre accade moltissimo a livello interiore a livello di sentimenti accade moltissimo e a volte in modo irrimediabile per i personaggi ma il suo poco lume ricordo verdino che impostò così la sua relazione dieci anni fa quando alla facoltà di lettere parlamo della Donghi poco lume il titolo di uno dei suoi racconti più belli ma il poco lume rimanda a un interiore rimanda alle luci basse alle voci sotto alle voci dette alle parole dette in sottovoce che sono molto presenti nella sua narrativa per adulti e qui voglio citare uno dei suoi libri più noti Natale non mio dove appunto si può dire in maniera emblematica che non accade mai niente ma negli interni accadono è Natale Natale rimanda a situazioni interne rimanda alla familiarità rimanda ai conflitti che però non esplodono mai coi colori del melodramma anche se alla Donghi i melodrammi piacevano moltissimo resta tutto sfumato resta tutto soffuso ecco pensate solo una citazione per non uscire dal mio dal mio seminato Ines una servetta ventenne che si trova nella difficile situazione di sostituire a lungo la padrona di casa che è ammalata noi sappiamo perché ce n'è in forma la Donghi ovviamente che è malata in maniera irrimediabile Ines costruisce con la padrona che sostituisce per necessità un rapporto molto complesso dove però non avviene praticamente mai nulla cresce col passare del tempo un rancore profondissimo tra queste donne persino violento ma non appare mai non esce mai e infatti cito Ines pensava così per prova parole pungenti e non sapeva dirle ecco a questo punto i sentimenti appunto anche molto violenti possono restare dove sono non detti nella scrittura per i giovani tutto questo cambia ma vediamo come in cosa fa la Donghi come scrittrice esperta in in un contesto dove al centro rimane lo sguardo sul femminile quindi elemento molto importante nella narrativa per adulti la Donghi immette l'azione nella letteratura per ragazzi lo sanno tutti almeno in quella classica l'azione è il sale della terra nelle fiabe c'è moltissimo movimento nelle fiabe non si sta lì a pensare ai problemi delle relazioni tra le persone nelle fiabe si corre spesso si fugge si attraversano le montagne si attraversano i laghi e i mari si scalano si raggiunge una e si riesce a entrare in torri inespugnabili aggrappandosi alle trecce del bene amato della bene amata ovviamente della bene amata e e quindi ecco l'azione entra dentro la narrazione conservando quello sguardo sul femminile che è tipico della produzione narrativa della della Donghi è un vortice di accadimenti quando decide di dedicarsi all'editoria per ragazzi la Donghi accetta questa sfida voi sapete che lei percorre una strada diversa da quella che accade a molti altri autori Moravi arriva alla fine della carriera a scrivere fiabe per favole in particolare per i ragazzi cioè dalla letteratura adulta vanno alla letteratura per ragazzi la Donghi fa il contrario quando accetta quindi di lavorare per i ragazzi e qui cito un'intervista che lei fece alla fine degli anni settanta pensate voi mi disse non è una sfida facile le chiesi se per lei era più semplice scrivere per i ragazzi o scrivere per gli adulti e lei mi rispose che scrivere per i ragazzi le costava più fatica perché evidentemente non le era così naturale come invece scrivere per gli adulti è una fatica che non si vede naturalmente perché gli esiti sono assolutamente brillantissimi e nesce una scrittura sbrigliata felicissima tutta azione e soprattutto piena di ironia è soprattutto nella produzione per i ragazzi che l'ironia della Donghi esplode se vogliamo andare un attimo avanti grazie molto gentile ecco vorrei soffermarmi rapidamente su questo libro che è uno dei più famosi quell'estate al castello è anche forse l'esempio più esplicito della qualità narrativa della Donghi che scrive per i ragazzi è un racconto divertente è una scrittura scorrevole ma sempre molto dominata e inaugura un quindicennio circa forse un po' meno forse 12 anni di sodalizio del grande sodalizio con la casa editrice L di Trieste che proprio all'inizio di quegli anni acquisirà i marchi e i naudi ragazzi e è bendizioni diventando una luce un faro nella produzione editoriale per i ragazzi e con questo editore che per una decina d'anni la Donghi pubblica bene quell'estate al castello è anche frutto delle avide letture della Donghi adolescente che sono ben testimoniate dal già citato ehm libro eh del già citato epistolario con l'amica di sempre Camilla Salvagoraggi dove moltissime lettere tra queste due ragazze parlano delle loro letture delle cose appunto che 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 leggono ogni giorno e qui nella scrittura per ragazzi il gioco mimetico si fa molto ben riconoscere fa proprio parte del gioco di rimando tra autore e lettore come dicevo prima qual è il modello ma qui il modello evidentissimo è la biblioteca dei miei ragazzi di Salani che era la lettura fondamentale nei in chi cresceva tra gli anni trenta e gli anni e gli anni quaranta lettura obbligatoria qui la la vedo che qualcuno beh sì anche anni settanta anche adesso se vogliamo se riusciamo a trovare ancora qualcuno di questi vecchissimi libri però le edizioni se non vado errato Walter sono quegli anni lì esatto bene quindi quando era già grande eh Beatrice dunque qui la storia dicevo questo racconto si riempie di avventura misteri agnizioni tesori cercati trovati non trovati insomma tutto l'armamentario dell'avventura che è tipica dell'editoria per ragazzi però ecco qui i legami anche in questo racconto per ragazzi con grande abilità sempre e grande padronanza del genere narrativo Ladonghi riesce a immettere molti dei temi che in chiave diversa ma non estranea inserisce nella sua scrittura per adulti vediamo ne alcuni passaggi troviamo i contrasti tra donne i contrasti adolescenziali ma anche i contrasti tra donne adulte vediamo i conflitti di ceto vediamo la potenza dell'amicizia vediamo però anche il dolore di determinate condizioni esistenziali il libro ha un successo molto forte prende il premio 100 e forse il libro dal punto di vista della fortuna editoriale più venduto della Ladonghi io adesso qui ho messo già l'ha fatto un po' Boero ma forse può servire legando testo a data un po' una specie di piccola mostra di quanti libri per ragazzi Ladonghi ha scritto e guardate che è molto lacunoso perché non non potevo mi è stata data una maratona al contrario quindi non potevo metterne molti però vi lascio proprio un secondo per guardare quanti sono questi e nella diapositiva successiva questi altri alcuni appunto già citati da Boero per esempio le fiabe incatenate e qui c'è un sbaglio mio non è 196 al tempo al tempo degli imperatori romani no è 1967 poi 94 e poi 2020 pensate quante riedizioni ecco le storie di Ninetta anche un libro vendutissimo esce per Mondadori queste due slide ci permettono anche di vedere con quali editori Ladonghi ha scritto e questo è molto importante ha scritto per Mondadori ha scritto appunto per Einaudi ha scritto ha scritto per i maggiori editori italiani e alcuni di questi libri sono stati tradotti quindi la figura della Donghi va inserita in una editoria che è una editoria nazionale e internazionale in particolare Topi Pittori è uno degli editori diciamo più internazionali che abbiamo si diceva qualche giorno fa con Boero che addirittura Topi Pittori espongono a Bologna nella sezione degli editori stranieri e so che producono molti libri già tradotti in modo che siano nel mercato internazionale quindi il livello è veramente di un'autrice che merita merita moltissimo di essere anche recuperata bene se possiamo andare ancora avanti vorrei citare sempre per cercare di vedere che col gioco del mimetismo si portano avanti anche certi discorsi tra produzione per adulti e produzione per ragazzi vorrei parlare un attimo di questi due libri la figlia dell'imperatore e il suo seguito che esce sei anni dopo le due imperatrici il racconto principia da un topos tradizionale della letteratura diciamo popolare lo scambio di due neonate nella culla è uno uno degli inizi che piacevano anche alla Carolina Invernizio ecco vedo che anche qui qualcuno conosce Carolina Invernizio in genere ci se ne vergogna eh invece mi fa molto piacere tra l'altro anche lei adesso è molto molto studiata bene da questo scambio escono due ragazze che descrive pur parlando ai giovani come due giovinette di diversa molto diversa personalità che sono chiamate addirittura al soglio dell'imperatore a fare l'imperatore e quindi immette nel confronto e nel contrasto di due giovinette una cosa terribile come il potere e riesce a farlo tenendo una narrazione tesissima soprattutto il secondo le due imperatrici è un libro che ha un alto livello di complessità molto alto pur leggendosi con estremo piacere perché c'è sempre questa grandissima abilità grandissima abilità possiamo passare alla penultima slide altro gruppo di libri sui quali vorrei fare una piccola riflessione sempre cercando di analizzare la scrittura mimetica è la trilogia di Alice cambia l'editore forse anche perché le due imperatrici non trovano la giusta collocazione nella collana di L e questo sarebbe un po' da indagare e la Donghi passa a lavorare per una collana di grande tradizione i delfini di Bonpiani ma non è più la Bonpiani di un tempo è la Bonpiani di Fabri siamo già in pieno come dire in pieno momento di accorpamenti tra case editrici escono tre libri straordinari qui vedete i titoli e vedete le copertine ancora una volta ci sono i temi cari e noti che ritornano tutti giochiamo con Malò Alice nelle strade senza famiglia giochiamo con Dickens Londra Alice che si perde nelle strade di Longia pensiamo ovviamente Oliver Twist è quello che volete giochiamo anche con la Austin e giochiamo anche con la Elcott e qui vorrei un attimo sottolineare tra gli studi critici della Donghi dei bellissimi studi sulla Elcott che ancora sono sparpagliati nelle riviste e se capitasse magari se ci fosse qualche editore interessato potrebbe essere un ulteriore approfondimento perché scrive cose lavorando soprattutto sui testi originali che almeno quando le scrisse non erano assolutamente note della amatissima amatissima Elcott quindi ci sono fughe generate da conflitti tra adolescenti o tra adolescenti e adulti incontri emozionanti a volte inquietanti spesso paurosi rovesci di fortune finanziarie un altro topos che torna moltissimo nella narrativa della Donghi con tutte le conseguenze di cambio di prospettiva affettiva anche e ci sono le reclusioni in collegio chiunque abbia memoria della narrativa per ragazzi anglosassone soprattutto inglese ha memoria dei collegi inglesi e Roald Dahl ricorda i collegi e li ricorda con tre battute fame gelo cattivo odore di corpi mal lavati e quindi lei raccoglie ancora una volta le memorie delle sue letture ma una figura di bambina moderna volitiva coraggiosa senza però mai cedere al gioco più facile a quello di modernizzarla no rimane sempre lei è un libro che ha tanti debiti e li testimonia con la letteratura anglosassone dell'ottocento più che leggervi un brano prego leggerò l'indice di Alice per le strade che più di ogni altra cosa svela da sola il gioco mimetico ed è un indice attenzione d'autore perché gli indici normalmente li fanno gli editori qui e siamo sicuri che questo indice invece l'ha fatto l'ha fatto lei ed è proprio descritto bene il gioco mimetico della scrittura io donghiana una mattinata tutta storta viaggio indiligente si parlava dall'inizio dei viaggi no avventura notturna parente povera diceva dramme fuga Alice scomparsa un incontro per la strada un rifugio per la notte in cerca di Alice fulmina ciel sereno in casa Tain al campo delle corse sulle tracce di Alice scompiglio al campo delle corse incontro mancato pensando ad Alice pioggia schiarita nebbia fitta finalmente a Londra le vie della capitale cani e topi nelle mani della polizia e un rapimento per sovrappiù infine infine il lieto fine poche parole in più perché vuol dire la sua e rivela tutto il gioco del mimetismo e poi una nota in cammino di Antonio Faeti che dirigeva questa collana e che aveva un grande apprezzamento per la Donghi e scrive tre note su questi tre libri veramente esemplari andiamo alla chiusura mi scuso ovviamente per le ampissime lacune di una produzione che come tra adulti e bambini è veramente elevata come qualità come background culturale e come modernità narrativa devo dire che sono molto contenta che topi pittori la recuperi perché è un'operazione doverosa però tutto a una fine e quindi chiudo anch'io e chiudo con le parole della Donghi anzi con una sua filastrocca che tanto per essere sempre originale invece di mettere alla fine di delle sue fiabe la prepone alla sua splendida raccolta la gran fiaba intrecciata e anche qui vedo che qualcuno già la legge e anche qui il doppio registro adulto infanzia è molto molto evidente proviamo a leggerla come si deve tutti lo sanno quanto stia male un libro intero senza morale e la morale è bella ma strana è sempre bello quel che si ama voltala è uguale è il ritornello quello che ami per forza è bello se te ne scordi o non lo sai presto o più tardi lo perderai superi monti di là dal mare se l'hai perduto vallo a cercare e la morale è bella e non nuova quel che si cerca poi si ritrova grazie grazie a Carla Salviati per questo bell'intervento che tra l'altro ci ha posto appunto il nesso appunto tra questi due aspetti dei radunghi del modo di narrare no? vedendo appunto da un lato certamente le differenze non accade mai niente da un lato nella scrittura per adulti e ovviamente accade di tutto basta vedere l'indice che è stato letto ma anche i forti punti di sutura e di intraccio nell'ambito del mimetismo bene e ora chiudiamo la sezione appunto legata alla scrittrice per infanzi e ragazzi con Walter Pochesato della redazione di Anderson che tutti conoscete i suoi molti titoli fanno sì che molto legato a il corsaro nero nel mondo di Emilio Salgari dei Francoangeli e molti interventi sul rapporto sulla guerra no? editi da Interlinia che ha pubblicato molte cose sue il gioco della guerra raccontare la guerra e e poi in collaborazione con Pino Boero più recentemente l'alfabeto di di Gianni e Fai du Bestento che sono stati sempre con la collaborazione di di Pino Boero ci parlerà dei libri illustrati della cominciamo già con la prima immagine ma io la prendo da lontano perché devo dire che sono rimasto molto colpito dall'immagine che poi è stata scelta per il convegno cioè di Beatrice Bambina che legge e probabilmente legge e sfoglia un albo illustrato e allora guardando questa foto mi è venuto in mente un racconto bellissimo di Beatrice Solina Slonghi compreso in questa raccolta che è l'Aquilone Drago che è i pigmei d'Europa e a un certo punto lei scrive era una bella giornata di sole aprile maggio chi lo sa più il nostro salone era ancora tutto giallo tende poltrone puff fu cambiato in verde l'anno dopo e sembrava soleggiato il doppio accovacciata sul puff con i gomiti sulle ginocchia e il corriere dei piccoli squadernato davanti io stavo leggendo una novella di Antonio Rubino mista di fiaba e ricordo di infanzia sui corsi che sarebbero gli abitanti favolosi di certi luoghi impervi delle Alpi Marittime di statura nana e natura benigna o malevola a seconda delle circostanze la novella era illustrata Erc Wright che era presente perché aveva pranzato da noi passeggiando con la tazzina del caffè in mano buttò per caso un'occhiata sulle figure e si chinò con l'istantaneo interesse a chiedere che gliela spiegassi interessante molto interessante gli sentii dire a mio padre con calore e qui nasce questa diciamo deliziosa racconto che ci parla proprio diciamo di questo Erc Wright e della figlia e soprattutto Erc Wright il quale poi torna in Inghilterra dopo con lo scopio della 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 seconda guerra mondiale muore anzi nel trasferimento così ci dice lei verso l'Inghilterra mentre si trova in Portogallo e lascia però alla figlia un quadernetto dove ha scritto tutta una serie di fittissimi appunti proprio sull'esistenza perché lui crede in queste cose sull'esistenza dei pigmei d'Europa e qui siamo su un territorio che è tipico inglese perché basti pensare al libro del famoso libro del reverendo Kirk oppure ancora possiamo vedere l'immagine successiva a questo libro in una rarissima edizione italiana che è L'apparizione delle fate è un libro che esce tra il 1917 e il 1920 sparita l'immagine edito a Trieste da una libreria collegata probabilmente alla società teosofica ma la storia di questo libro è molto intrigante perché in pratica il libro nasce da una serie di fotografie che due ragazzine dicono di aver scattato alle fate e lì si scatena in Inghilterra una discussione paradossale ci appare a noi anche perché se vediamo queste immagini capiamo che per dirla in genovese queste immagini erano tarroccate e invece ci credono veramente e addirittura si scomoda il grande Conan Doyle il quale con estrema serietà scrive un lungo saggio sostenendo che questa è la prova provata dell'esistenza delle fate e dunque vedete come si saldi questo elemento a quello della donghi cioè al mondo di Beatrice andiamo avanti perché sempre su questo territorio del fiabesco e qui abbiamo quella che è la prima raccolta il primo racconto di Beatrice Solinas Donghi che ho scoperto anni fa per caso e che esce pensate addirittura firmato Beatrice Donghi nel 1945 è una strena è una strena no poi è stata l'abbiamo l'abbiamo ripubblicata parecchi anni fa anche su Andersen ed è una strena rarissima da trovarsi dell'editrice Genio dove all'interno ci sono tra l'altro grandi nomi perché ad esempio il fatto che sia stata stampata sul finire del 45 perché si trattava di una strena è perché a un certo punto Sergio Tofano che fa alcuni disegni per questa strena la firma e la data come amava fare lui però ci sono alcuni dei grandi nomi dell'illustrazione italiana di quegli anni ma soprattutto c'è questo racconto possiamo vedere l'immagine successiva che si intitola appunto La pentola del diavolo e qui questo è un racconto finissimo dove c'è già tutta la scrittura e la sensibilità e quel viaggiare sempre diciamo tra realismo e fiaba che è tipico della scrittura di Beatrice perché questa è una storia diciamo è questa donnetta che alla fiera al mercato e dunque è una fiaba intrisa di sapori liguri anzi dell'entroterra genovese compra una pentola che poi si rivela opera del maligno perché è una pentola che fa che fa dispetti finché lei va da un da un frate in odore di santità il frate fa rompere questa pentola no? e addirittura c'è eh questa nota ironica perché lui toglie la no? la maledizione l'impronta del diavolo che c'era in questa pentola ma la deve rompere ovviamente e la donnetta dice ebbe il guadagno inviperita da tutte quelle disgrazie mi avete rotto la pentola nuova grazie di niente proprio e qui c'è già tutto questo linguaggio intriso di eh di elementi dialettali che notava anche prima Pino Boero nel suo intervento no? e questi sono tutti questi giri di parole che sono quelli tipici della lingua genovese ma eh soprattutto poi eh questa come avete visto possiamo vedere anche l'immagine successiva erano due alla già messa e sono ci sono alcune illustrazioni le illustrazioni non sono memorabili non sappiamo di chi siano e tutto sommato la cosa poi non ci turba in modo particolare ma sicuramente sono interessanti perché mostrano questa sensibilità che non solo la Donghi fin dai suoi eh aveva verso la lingua ma aveva verso il mondo della narrazione della narrazione popolare perché questa è non è una fiaba sta a metà tra la leggenda religiosa rivisitata in modo molto laico e e garbato e invece il racconto popolare il racconto da attorno al fuoco il racconto da veglia e eh ecco prima però di passare alle illustrazioni volevo mostrarvi perché secondo me è un elemento che noi spesso come dire sottovalutiamo o ignoriamo completamente che è quello delle copertine le copertine spesso svolgono ho già messo l'immagine successiva svolgono un ruolo eh importantissimo per entrare nel libro per capire in una sola immagina quello che è l'essenza del libro e questo è eh sono le copertine di quei tre libri che sono già stati citati e come vedete sono ad esempio questa dell'Aquilone Drago è particolarmente bella perché attraverso la mediazione del del dorso passa dalla prima alla quarta di copertina in un'unica soluzione narrativa l'autore di queste copertine che lavora per Rizzoli tra il 1961 e il 1972 è un grande graphic designer è un art director ancora oggi secondo me poco noto che è Mario da Grada che eh praticamente in un'epoca in un mondo in cui oggi non è più così purtroppo le collane e si caratterizzavano proprio non solo per la loro desiderio continuo di sperimentazione di innovazione ma per assicurare al pubblico dei lettori dei compratori una forte riconoscibilità una forte impronta eh di riconoscibilità e lui usa questo colori molto fluo fluo diremmo questi elementi di carta strappata sul bordo inferiore e un dettaglio un accenno che ci porta al al libro l'altra immagine e sono sempre due copertine eccole qua e eh adesso invece vediamo la copertina di un libro eh per per Feltrinelli che è questo no? che è l'estate no? della menzogna e la mostro perché anche questa è una bellissima copertina ovviamente eh spesso gli autori delle copertine non venivano citati anche qui non c'è a mio parere potrebbe però trattarsi è un'ipotesi per quel che vale potrebbe trattarsi di un altro grande nome del graphic design italiano eh che era Albe Steiner e eh ma pensate se vediamo l'immagine successiva quella con i tre segnalibri che ho messo fronte e retro sono i tre segnalibri eh sì sono i tre segnalibri che si trovavano all'interno dei dei libri anzi in genere in alcuni casi si trovavano all'interno del libro stesso altri l'editore li metteva in libri diversi eh io li ho trovati nel corso degli anni ma la cosa interessante è che sul retro di questi a un certo punto si dice che la grafica è proprio di quel da grada che citavo prima mentre nel libro non viene fatta menzione eh dell'autore ma sempre a proposito di copertine così poi ci avviciniamo di più ai territori dell'illustrazione c'è questa splendida copertina che abbiamo già visto la collana infanzie e sono gli anni in cui non solo questa collana rappresenta un elemento importantissimo nel campo degli studi della letteratura infantile ma tutta la cura grafica poi il processo come dire chiamiamolo di normalizzazione avvenuto all'interno di mondadori porterà alla chiusura e all'espulsione del catalogo non solo di questa collana ma di centinaia di splendidi titoli della mondadori ma la cura è di un altro grande nome eh del dell'illustrazione italiana Federico Maggioni qui in veste di Art Director e invece passiamo adesso alcune di queste copertine le abbiamo già viste ovviamente ecco qui bisogna fare una breve premessa le abbiamo già viste le opere di Beatrice e sta ovviamente è stata molto illustrata ma come capita a tutti gli autori eh non sempre gli illustratori e e o gli editori no? perché in genere sappiamo che poi lo scrittore conta poco o nulla no? per quanto riguarda la scelta degli degli illustratori in alcuni casi eh sicuramente è meglio così e lo dico anche per esperienze personali in altri casi sicuramente eh Beatrice Solina Sdonghi avrebbe storto giustamente il naso avrebbe dato dei consigli più accorti diciamo così però è chiaro la mia non è non vuole essere una rassegna di tutti quelli che si sono cimentati di alcuni è meglio lasciare meglio tacere è meglio dimenticarli perché hanno fatto un cattivo servizio alla lingua e alla scrittura di Beatrice ma eh qui mi limito ai più importanti non ho immagini ma si può citare ad esempio se vogliamo restare in territori genovesi alcuni disegni molto belli di un pittore e anche illustratore eh come Attilio Mangini si può citare Serena Riglietti che peraltro poi è diventata celebre e un po' a questo è rimasta come dire incatenata per usare un termine caro alla Solina Sdonghi è stata l'autrice delle copertine dell'edizione italiana di Harry Potter ma anche qui ovviamente c'è un rapporto che è stato anche credo di conoscenza reciproca che sarebbe da indagare con una delle grandi nomi dell'illustrazione italiana ancora oggi attiva e ancora oggi capace ogni volta di stupirci per la vitalità e la freschezza del segno la voglia di sperimentare che è Emanuele Abussolati e abbiamo già visto qui queste queste ecco sono quattro i libri che illustra Emanuele Abussolati e la cosa che sicuramente colpisce è come ed è quello il tratto io dico sempre che rende grande un illustratore cioè il fatto di far sì che il lettore riconosca no quel segno quel determinato segno ma che allo stesso tempo questo segno cambi anche profondamente di libro in libro non per mostrare che si è bravi ma per adeguarsi alle ragioni del testo e allora se andiamo ad esempio a questo all'estate al castello questa 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 qui ecco qui ne parlava prima molto bene Carla Ida no ma questa è ovviamente il segno suo cambia c'è questo segno veloce fratto quasi nervoso che però ad esempio in questa immagine sicuramente rimanda ad una copertina famosa della biblioteca dei miei ragazzi perché come si diceva tra l'altro ecco una cosa che non è da ricordare Beatrice Solina Sdonghi ha scritto anche alcuni saggi secondo me fondamentali perché molto si è scritto sulla biblioteca dei miei ragazzi ma si è fatta soprattutto della filologia preziosa poco si è fatto invece sul versante critico di questa collana fondamentale per la storia della letteratura italiana per l'infanzia io dico la più amata perlomeno sino appunto agli anni agli anni sessanta ma la cosa interessante è questa qui c'è un rimanda ad una alla copertina alla tribù dei conili selvatici che è una copertina di Faorzi e rimanda proprio c'è una citazione se vogliamo anche se la situazione è completamente diversa e poi invece c'è secondo me questa se mi manda la cosa più interessante è questo perché Sol è uno dei libri più famosi della Solina Sdonghi ma all'interno andiamo avanti con la prossima la Emanuele Abussolati ricorre ad un'arte preziosa e difficile ma che voglio dire riusciva a rendere alla perfezione la struttura del racconto che è la silhouette ci sono queste silhouette deliziose preziose raffinatissime che entrano che creano un rapporto strettissimo con il testo perché non dobbiamo mai dimenticarci che quando parliamo di illustrazione parliamo sempre di un rapporto che si deve creare cioè se un'illustrazione ripete quel che il testo dice già non racconta l'illustrazione è racconto è narrazione dunque deve entrare in un rapporto dialettico col testo deve andare a cercare quello che il testo non dice o che appena accenna e che appare secondario e invece poi si rivela fondamentale nel rapporto della narrazione ed è quello che costantemente riesce a fare appunto Emanuela Bussolati un'altra illustratrice che si è che ha illustrato li ricordava prima Carla Ida due libri di di attrice Solina Sdonghi è nella Bosnia con le due imperatrici e prima con la figlia dell'imperatore nella Bosnia purtroppo da anni anche qui per scelte editoriali che io giudico a dir poco discutibili ha di fatto è stata costretta ad abbandonare l'illustrazione ma a me è sempre invece molto piaciuta per questa sua capacità di calarsi e di documentare qualsiasi periodo storico avesse a che fare e soprattutto di farlo con questo segno elegante raffinato con questa declinazione secondo me quanto mai personale di Ligne Claire e poi ovviamente qui c'è uno degli ultimi lavori di Beatrice Solina Sdonghi che è questo libro illustrato da Antonella Battiello che con questo acquarello molto dolce molto molto gentile arioso e poi qualcuno lo citava già questa la Irene Rinaldi per topi pittori e qui veramente entriamo in un capitolo nuovo e diverso perché Irene Rinaldi che è una illustratrice ormai nota anche a livello internazionale ha saputo calare le storie della Donghi in un contesto completamente diverso e facendolo come? Andando a quella che era l'illustrazione americana e francese degli anni 50 in Italia noi è meglio tacere su quegli anni a parte alcuni grandi talenti diciamo che prevaleva il realismo e il realismo a tutti i costi anche qui di cose se ne sarebbe da dire però ecco è interessante questa declinazione e allora io adesso concludo concludo andando invece a rileggere una pagina sempre alcune righe sempre di quei pigmei d'Europa perché dice prima dell'ultima guerra esisteva ancora quella razza curiosa degli inglesi di Riviera che aveva forse avuto la sua fioritura più stravagante nella seconda metà dell'ottocento quando Edward Lear affidò l'arrangiamento per piano del suo patetico e pazzesco Yongi Bongi Bo a un certo professor Pome di Sanremo da lui menzionato in nota dopodiché poverino morì proprio di pazzia malinconica come si chiamava allora parecchi anni più tardi a voler essere pignoli e dunque anche qui vedete non solo mi piaceva tornare indietro dato la circolarità di certe fiabe che Beatrice conosceva molto bene ma perché in qualche misura in questo riferimento ad Edward Lear l'inventore dei Limerick che era anche pittore e illustratore alleggia l'ombra di quel Andrews che nominava prima con i suoi conti e qui ho finito grazie grazie Walter Pochesato per questa rassegna anche qui siamo ci siamo sempre passati tra adulti e ragazzi costantemente con il gioco delle illustrazioni continuiamo abbiamo due relazioni ancora Massimo Bacigalupo in qualche modo chiamati in causa adesso con questi inglesi di Riviera che sono stati qui evocati e ci parlerà appunto del rapporto con di una donghia anglista legata alle sorelle Bronte ma non solo che di cui ha già accennato nella sua testimonianza Nicolo De Mari ma è un altro volume dedicato a Emily Bronte si buonasera grazie di questo invito e sono contento di sentire parlare della di questa scrittrice di questa persona che di di così grande qualità come artista ma anche di come qualità umana come noi la ricordiamo e come appare dalle sue come appare dai suoi scritti c'è sempre questa presenza di una di una mente vigile simpatetica intelligente senza indugi sentimentali eppure con una con una grande simpatia per la condizione umana ma una simpatia che non ha bisogno di essere espressa retoricamente ma viene rappresentata attraverso le figure attraverso con l'arte della narrazione perché appunto abbiamo a che fare con una narratrice che conosceva l'arte dell'intrattenere l'arte del cantastorie del creare dei racconti di creare degli intrecci c'è una famosa battuta di uno scrittore vittoriano che come regola della scrittura dice falli ridere falli piangere falli aspettare no falli ridere falli piangere falli aspettare diceva uno scrittore vittoriano e appunto forse Solina Sdonghi rifugge addirittura dal troppo ridere dal troppo piangere però e dal troppo aspettare ma in realtà tutte le volte che leggiamo qualcosa di suo veniamo presi avvinti dalla vicenda dalla curiosità anche quando gli eventi narrati sono minimi fanno proprio parte di un quotidiano quasi fiammingo nelle rappresentazioni delle miniature ecco c'è qualcosa della miniatura forse anche nella sua scrittura ma insomma ci sono tanti aspetti che si ricordano sempre insomma in tanti aspetti di questo prisma di questa di questa scrittura mi ricordo appunto già anche Verdino cita spesso la passione della Solina Sdonghi per Goldoni è un autore che io appunto le sentivo citare la sua passione per questo probabilmente anche lì per una grande una grande sobrietà una capacità di di guardare la realtà umana in maniera in maniera così così aperta ma anche senza indugi senza no senza senza dilungarsi perché i sentimenti emergono e poi c'è sempre anche un certo sano realismo e per cui una cosa che appunto si può dire della Donghi ma sono tante persone qui che l'hanno studiata molto più di me è che appunto rifugge da quello che di spesso si associa con la scrittura femminile ora non so se mi ricordo che la sua grande amica Camilla Salvagoraggi sperdur spergiurava per Virginia Woolf no che questa scrittrice di di battiti di ali di farfalle no di momenti momenti di essere si chiama un libro della Woolf e e non so se appunto invece questa sensibilità così estrema del di una scrittrice come Virginia Woolf che c'è anche questo aspetto nevrotizzato era poi tanto consona a Beatrice Solina Sdonghi che però appunto amava molto gli scrittori inglesi e la lezione del romanzo dell'ottocento e sono stati citati quando si si parla di lei si cita sempre insomma le grandi le grandi scrittrici scrittrici Jane Austen no e poi quasi coetaneo di poco più tardi le sorelle Bronte e poi naturalmente Dickens già citato prima e Dickens che ricordo lei è venuta qualche volta quando insegnavo letteratura inglese faceva anche dei corsi di letteratura inglese e la invitavo a parlare di di great expectations grandi aspettative e veniva a parlare ai nostri studenti nelle fredde aule della della facoltà di lingua no sempre con dei contributi molto molto precisi no mettendo sempre chiarendo molto gli intrecci no mostrando mostrando quali sono i meccanismi con cui questi artisti hanno creato le loro storie e appunto ci sono tante cose che che lei lei occupandosi di letteratura per l'infanzia e non solo ha scritto tutti questi contributi e ci vorrebbe proprio una bibliografia che forse qualcuno farà uno di questi giorni se non è già in corso per vedere avere un indice per scoprire appunto per esempio quello che lei ha scritto sulla Luisa May Alcott no di cui abbiamo parlato poco fa la Alcott questa no l'autrice americana no figlia di un famoso filosofo trascendentalista che doveva essere semipazzo perché e lei Alcott scrisse un famoso racconto in cui parla di lei bambina che deve seguire questo papà un po' profeta che va nella campagna per vivere secondo la natura no e arrivano in questa casa freddissima eccetera perché l'Alcott appunto aveva un po' anche questo carattere ironico guardando poi un genitore così idealista e così via ecco no per vedere sarebbe importante sapere questi contributi perché alcune di queste scrittrici poi abbiamo avuto tutta una fase di ripensamento sulle scrittrici fra virgolette dimenticate o sottovalutate dell'ottocento e del novecento per cui anche colleghe italiane pubblicano libri sui romanzi questi romanzi sentimentali scritti da Alcott perché Alcott scrisse poi oltre ai famosissimi romantichi che tutti ricordiamo anche così delle storie tinte forti perché una che viveva della sua scrittura era una scrittrice professionale una scrittrice commerciale tutte scrittrici insomma che sono state rivalutate recentemente nell'ambito di una critica di tipo femminile femminista che però sarebbe invece utile riguardarle proprio con quello sguardo così poco incline alle illusioni o alle insomma una lettura mirata che c'è una lettura molto più franca molto più precisa che mette a fuoco veramente l'oggetto della sua attenzione come è quella di Bettice Solina Stonghi che come mi è capitato anche di ricordare occupandosi di teorie della fiaba era molto scettica nei confronti delle grandi teorie che cercano di spiegare o psicanaliticamente o sociologicamente le teorie che abbiamo studiato se le abbiamo studiate negli anni 60 70 e così via per vedere invece la materia stessa vedere che la spiegazione di alcuni topoi delle fiabe non va cercata in qualche mito originario ma è qualche cosa proprio legata a un certo topos che significa non so coraggio al superamento della prova e così via e per cui ricordo anche qualche recensione così sanamente scettica di Bettice Solina Stonghi per cui il suo contributo all'anglistica è probabilmente molto più ampio di quanto non si possa sapere così perché i suoi saggi non sono stati raccolti saranno un giorno si spera raccolti come è stato detto forse si troverà il modo di dire perché tutte le volte che mi sono imbattuto in una sua prosa nelle riviste come legge argomenti e così via ne ho sempre tratto profitto dalla sua lettura però abbiamo la possibilità di leggere alcune cose o di ricordare anche alcuni suoi interventi lei si occupa per esempio su Dickens lei scrisse appunto su Dickens fece quell'intervento che vi dicevo presso di noi però nella rivista del nostro dipartimento di lingue uscì un suo lungo saggio che per me era piuttosto misterioso su le opere giovanili delle sorelle Bronte col fratello anche Branwell le quali fin da bambine come del resto lei con l'amica Camilla scrivevano questi racconti questi racconti fantastici che si chiamano si riferivano a una terra misteriosa chiamata Gondal e Solina Sdong ha studiato questo mondo questi intrecci fantastici io ho letto questi suoi saggi ma non sono riuscito nemmeno a capire tanto questo mondo perché è molto tutto così stravagante però lei l'ha sicuramente penetrato sono quasi dei giochi di ruolo un po' sono quello che poi i ragazzi degli anni settanta hanno fatto quei giochi di ruolo per cui esistono questi saggi che si possono trovare e un altro saggio che uscì sulla rivista genovese nuova corrente riguarda Emily Bronte e lei mi pare si intitolasse il lieto fine di Wuthering Heights dove praticamente Wuthering Heights è cime tempestose il capolavoro di Emily Bronte di cui un libro su cui tutti amano un libro famosissimo che si trova naturalmente in tutte le librerie però sul cui intreccio le persone non si sono mai messi d'accordo su chi era il buono chi era il cattivo cosa succede davvero perché c'è una costruzione molto complessa dal punto di vista dell'intreccio dei flashback del passato per cui è facile essere depistati da questo racconto per cui addirittura parlando del lieto fine probabilmente non mi ricordo questo saggio ma proprio per andare contro a quella che è un'interpretazione l'interpretazione comune per cui insomma troviamo in questi suoi interventi delle messe a punto che ci permettono di rileggere a me so che le abbiamo già lette queste grandi opere di solito si leggono durante l'adolescenza di rileggerle con tutti gli strumenti dei critici che lei che lei possedeva perché sicuramente sarà bello vedere la sua biblioteca a Serra Ricco ci sono lei aveva tutte le studiava la critica sugli autori di cui si occupava per poter poi intervenire però lo faceva in una maniera non appesantita dagli studi dalle discussioni ma insomma approfittava di tutto questo materiale per fornirne poi una sintesi e fornire un taglio originale per cui sicuramente prima l'ha ricordato Niccolò De Mari credo che appunto come opere che possiamo leggere proprio come libri di lei sulla letteratura inglese abbiamo queste due importanti biografie non tanto non tanto lunghe ma sintetiche però corpose a loro modo delle due sorelle prima di Emily Bronte e poi di Anne Bronte e i titoli sono sono dei libri che chi non li conosce veramente potrebbe dovrebbe leggere perché sono di per sé affascinanti sono delle storie sono dei racconti presentano dei personaggi straordinari però li collocano in questo loro mondo che poi di per sé è anche un mondo affascinante e la cosa lì è interessante è che sono è tutta una cosa molto fra virgolette romantica no? questo Yorkshire queste brughiere queste ragazzine cresciute in queste lande desolate con queste passioni fortissime il papà poi era irlandese per cui forse c'è questo sangue celtico per cui sono tutti dei personaggi che si prestano a essere a una scrittura enfatica e non sono pochi i critici delle volte anche i critici accademici che parlando di queste figure un po' sopra la realtà fantastiche si lasciano prendere dalla passione dall'immedesimazione e scrivono più di un mito di quanto non sia di persone vere in carne ed ossa come erano queste ragazze che morirono nemmeno a trentenni in sala della sorella Charlotte che poi sopravvisse e così via e che invece erano naturalmente persone normalissime in carne ed ossa che poi delle volte ci hanno lasciato degli iscritti dove dicono adesso siamo in cucina la zia in questo momento entra e dice cosa fai Charlotte Charlotte dice sto qui perché non non badi al cane il cane deve essere lato fuori c'è anche questo realismo appunto un pochettino fiammingo è bello è significativo che lei abbia intitolata la biografia di di Emily Emily Bronte al di qua della leggenda è un titolo molto semplice però molto sintomatico perché ci dice appunto che che sono dei personaggi che vanno guardati no senza delle lenti che al di là delle lenti al di là della 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 vulgata al di là di quello che si è scritto su di loro no delle volte per in qualche modo per censurarli o per edulcorare le loro personalità no per cui al di qua in una maniera molto franca no perché abbiamo a che fare con con una vita quotidiana con delle persone che scrivono tra l'altro un po' di nascosto e così via e pubblicano e vivono poi in un mondo privato ma anche in un mondo di editoria in un mondo storico no e tutto questo viene viene mostrato ehm senza lasciarsi andare a una no a una a una immedesimazione eh a no a una scrittura più di tipo troppo o troppo appassionata o enfatica per cui sono veramente delle è una biografia esemplare questa di eh Emily al di qua della leggenda ehm alla quale poi eh come è stato ricordato da Niccolo De Mari perché non è così facile da trovare questa biografia di Emily sarebbe bello che fosse ristampata perché fu pubblicata da un piccolo editore mi pare nel 93 se no mi pare nel 93 è un piccolo editore di Udine ehm e per cui forse si trova e vale la pena di leggerla perché lei in effetti eh è scritta un po' in maniera diciamo romanzesca per cui c'è questa capacità narrativa di far parlare i personaggi però eh allo stesso tempo come dice nell'introduzione Solina Sdonghi tutto quello che avviene tutto quello che viene detto tutti i pensieri attribuiti ad Emily alle sue alla sua famiglia è tutto basato su documenti per cui per cui eh insomma è molto interessante questo perché chiaro ci sono tanti modi di scrivere le biografie dei personaggi e non di rado si leggono biografie in cui eh in cui il biografo letterario incomincia eh no a lavorare di fantasia a attribuire pensieri a no a giganti addirittura a inventare delle a inventare delle delle cose il caso per esempio di Emily Dickinson che oramai tutti danno per scontato che fosse omosessuale così via tutte cose su cui non c'è assolutamente nessun nessun riscontro nei documenti però eh la 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 fantasia il lavoro no del il lavoro della fantasia delle lettrici porta a questi travisamenti completi no eh questi no totali travisamenti dei personaggi e questo è appunto quello il merito eh il merito di 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 Srinas Dong è proprio questo 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 vedere veramente avrebbe fatto sicuramente lo stesso se si fosse occupata di Emily Dickinson avrebbe visto anche lì molto al di al di qua della leggenda no cosa che è sempre difficile fare come dimostrano le tutta la vulgata intorno a questi personaggi ecco al libro su Emily che ha questo carattere qualche carattere anche così appunto romanzesco segue la segue la biografia fortunatamente pubblicata da Niccolò De Mari purtroppo postuma e si chiama Anne Bronte la gemella minore anche questo è un bel titolo no la gemella minore ehm perché non era non era la gemella naturalmente era più giovane di un paio d'anni di Emily però è gemella perché lei lo spiega poi all'inizio hanno una loro c'era una particolare simpatia un rapporto fra di loro no dice che che un'amica appunto ne parlava come di una una gemella minore e dice erano come gemelle intendeva soprattutto che erano legate da un'intesa strettissima la quale in effetti non venne mai meno nonostante le separazioni intervenute per motivi di studi e di lavoro mancava invece l'elemento della somiglianza tanto frequente nei veri gemelli e insomma incomincia con un'amica di loro questa Miss Nassi Nussi che ricorda di aver incontrato queste queste due straordinarie giovinette no Miss Nussi nelle sue impressioni sulla famiglia scritte molti anni dopo quel primo incontro fu esplicita sul fatto che Anne fisicamente era molto diversa dalle sorelle ora Anne Bronte non è una scrittrice celeberrima come Emily per cui se molti di noi magari molti dei qui presenti hanno probabilmente letto Emily hanno letto Wuthering Heights cioè Cime Tempestose pochi forse conoscono i due romanzi perché Anne Bronte pubblicò addirittura due romanzi due romanzi in realtà molto notevoli che molto che la che la battitrice Solina Sdonghi rivaluta e anche se insomma non ce ne sarebbe nemmeno bisogno perché basta leggerle una Agnes crea un po' una storia di un'istitutrice che si trova in una famiglia che dunque mostra questo clima oppressivo di queste famiglie dove i figli sono usati come delle pedine anche in un gioco matrimoniale e l'istitutrice è sconcertata dal cinismo della madre che presenta la figlioletta il miglior partito e così via e lei stessa l'istitutrice viene trattata come una serva per cui è trattata malissimo cosa che loro sapevano perché le sorelle Bronte tutte lavorarono come istitutrice e poi il secondo romanzo che invece è un romanzo con una storia di violenza di una donna di violenza di una donna che abbandona il tetto coniugale perché il marito è un la per cui insomma la violenta è un è un alcolizzato e una storia anche quella molto molto a tinte forti su cui che veramente di lettura appassionante e appunto la Beatrice Solina Sdonghi riesce a a collocare questi questi due notevoli romanzi insomma farci venire voglia di leggerli o di rileggerli all'interno poi della della storia di questa vita che finisce così precocemente e poi come diceva Niccolò De Mari eh prima mi ricordo quando mi arrivi quando Beatrice Solina Sdonghi mi mandò questo dattilo scritto arrivava no con questa sua calligrafia molto no molto semplice con queste tutte queste lettere arrotondate mi mandò mi mandò questo dattilo scritto mi sorpre certo a noi non ci sorprende che una un libro così interessante come una biografia di Anne Bronte personaggio no eh appassionante un po' misterioso no e così via accompagnato da traduzioni che in più casi sono la prima traduzione italiana perché appunto il libro si compone sia delle della biografia no di Anne che di una scelta delle sue poesie in inglese e in italiano e le le traduzioni le traduzioni sono di Beatrice Solina Sdonghi e sono molto eh molto azzeccate no non sono proprio strettamente letterali però seguono con con molta intelligenza con molta finezza la gli originali che poi noi possiamo leggere no per cui è molto bello poter leggere a fronte queste questi questi testi poetici di Anne Bronte allora sorprende che è un libro così ehm no così significativo anche raro perché in Italia in realtà non esistono biografie italiane di di queste di queste grandi scrittrici no per cui sono dei contributi di cui si sente anche la mancanza no che di cui c'è bisogno di cui insomma chiama poi che si appassiona di questo no di questi questi mondi meravigliosi no senti proprio è molto grato alla Solinas Dong che ha dedicato anni interessi passioni e sempre con dei risultati così eccellenti a questo studio ehm per cui sorprende ripensandoci però è sempre strana la storia qui ci sono persone esperti appunto del mondo editoriale no è sempre strane le vicende per cui ehm un autore viene ehm no viene scoperto riscoperto tradotto pubblicato e per cui si dà semplicemente il caso che tanto la la biografia di Emily esce con Campanotto che è un piccolo editore che non ha in realtà una circolazione nazionale di Udine e ehm Bronte mi arriva questo da tiro scritto e per anni non rimane 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 in un cassetto e poi emerge Niccolò De Mari con la sua casa editrice il Canneto che eh così eh con molta no disponibilità insomma ha l'intuito di capire che si che abbiamo che insomma che è un libro che merita di essere pubblicato e per me è stato un piacere in questi in quegli anni in cui si erano un po' costretti appunto a casa a leggere lavorare tornare a a leggere questo questa bella questo bel libro e a curarne la pubblicazione la traduzione e è un risultato felice un libro che insomma vi eh vi consiglio perché è un modo di di appunto di di conoscere questo mondo delle Bronte ma anche di sentire ancora una volta l'acutezza no la la passione la la capacità critica no di una di una scrittrice no che è veramente ammirevole ed esemplare ecco ora volevo solo ancora dire che che appunto certo ci sono queste questi contributi e se ne potrebbero ricordare altri per esempio nel nel libro sulla fiaba come racconto c'è un saggio su Chaucer Chaucer il grande poeta no del 300 visto uno dei suoi racconti all'interno della di un tema di un topos di una fiaba per cui insomma i contributi sono tanti però poi eh un altro aspetto della della dell'anglista Solina Sdonghi mi è stato ricordato che lei naturalmente era di madre inglese e così via anche se credo di non aver mai parlato inglese con lei per cui eh non non so esattamente quanto le facesse piacere parlare inglese sarebbe quelle cose no eh ma comunque è un altro aspetto che è quello che poi a noi come lettori forse proprio della sua attività narrativa ci più ci ci concerne sono i racconti in cui emerge questa sua questa sua passione per l'Inghilterra no questi racconti si trovano nelle sue nelle sue varie raccolte eh in questi giorni stavo un pochettino riguardando qualcuno di questi racconti eh per esempio nella nel libro La bella fuga c'è un c'è il racconto ce ne sono diversi eh uno che adesso devo rileggere perché tanti anni che non lo leggo si parla di un giovane inglese che va in una locanda e così via ma ce n'è uno molto avventuroso che si chiama Le tre vite di Mary Steele e questa è una storia di una di una è una storia che in qualche maniera ehm ha qualche ehm qualche aspetto che che va sul fantastico per cui in effetti c'è anche questa capacità che deriva un po' dalla da una certa dall'ebro insomma da una certa caratteristica della della narrativa inglese di inserire di portare anche di far sentire che c'è qualche cosa di misterioso che c'è un mondo psicologico che incombe no? che insomma che che la mente è la mente è imprevedibile la mente umana no? con le sue le sue intermittenze le sue i suoi momenti di assenza i suoi momenti di presenza il sogno no? il sogno è anche molto importante e a questo proposito si potrebbe ricordare che nell'ultima raccolta di della Sorina Sudonghi che si chiama quella appunto pubblicata da De Mari Vite Alternative c'è un racconto intitolato Stato Confusionale che è una storia forse anche in parte autobiografica dove la narratrice racconta improvvisamente di trovarsi di trovarsi se ben ricordo alla stazione Brignole e di non sapere dov'è e non sapere chi è di non ricordarsi il suo indirizzo di essere insomma in un momento di assoluta assenza mentale in uno stato confusionale ed è un bellissimo racconto che appunto è una cosa non è tanto fantastico perché è una cosa che potrebbe capitare a tutti e forse è capitato in qualche forma anche a Sorina Sudonghi e insomma però ci fa vedere che c'è questa questo come diceva Shakespeare che la nostra piccola vita è circondata dal sonno e è sempre in questo ebbene per cui le tre vite di Mary Steele potrete trovare insomma è un racconto dove c'è questa giovane che prima la vediamo va letto come ragazzina adolescente nella casa dei genitori la cena successiva si sveglia nel suo letto matrimoniale sembra che sia sposata già da anni con un uomo che le sta addosso e lei non capisce nemmeno che cosa questa persona sta facendo e comincia a urlare e questo le dà una botta per farla tacere capiamo che lei è stata sposata ormai sposata da alcuni anni così però tutto questo è stato cancellato lei semplicemente va a letto ragazza e si sveglia moglie violentata da un energumeno che pensa anche di darle un ceffone nel momento che lei esprime il suo il suo disappunto e dopodiché la storia continua si chiama Le tre vite di Mary Steele per cui vedete una storia molto romanzesca in qualche modo ma anche non lontana ai me dalla realtà e poi c'era una terza vita perché lei era la scappa e è veramente una storia anche un po' di Keynesiana dove ci sono questi elementi che derivano insomma dalla grande tradizione inglese però anche sempre poi calati invece in una in una realtà che che Selina Stonghi sa far insomma sa ricreare con questa sua capacità esemplare di questa scrittura esemplare e per concludere vi voglio anche ricordare sempre nel perché appunto abbiamo è una scrittice che voglio dire noi molti qui la conoscono molto meglio anche di quanto non la conosco io però è per cui ci sono tante persone che non l'hanno mai sentita a nominare che non l'hanno mai letta no? Per cui anche oggi un mio amico critico mi ha scritto ah ma ho letto quel tuo articolo vorrei veramente leggerla ma dove dovrei cominciare da cosa cominciare per leggerla no? perché forse appunto è un tesoro ben custodito la Solina Sdonghi no? Qui tutte le persone qui presenti probabilmente la conoscono l'hanno l'hanno letta comunque per tornare allora ai suoi racconti per concludere su un suo racconto nel nel libro Vite Alternative in questo nella raccolta Vite Alternative che è l'altro libro pubblicato da De Mari insieme appunto alla biografia di Anne Bronte per cui questi sono dei libri che per chi non li conosce si possono facilmente recuperare e vale molto la pena di leggere in questo Vite Alternative c'è appunto il racconto Vite Alternative in realtà è un racconto che riguarda Anne Bronte no? ed è molto ironico è anche un racconto piuttosto lungo mi ricordo che la Camilla Salvagoraggi mi diceva ma è troppo lungo quel racconto in realtà è un racconto affascinante e cosa è è la storia di una scrittrice che poi è forse la stessa Solina Sdonghi la quale è avvicinata da una studentessa che vuol scrivere una tesi non mi ricordo su che cosa ma insomma alla fine finisce con scrivere la tesi su Anne Bronte e non lo fa tanto volentieri perché lei è una ragazza molto spigliata molto fra virgolette moderna e invece Anne Bronte ha la fama di essere una molto religiosa il ritratto un po' edulcorato che ne fece la sorella contro cui appunto va questa biografia la biografia tende a creare una figura molto più risentita di Anne Bronte di quanto non sia quella vulgata e allora in questo insomma in questo racconto vite alternative la giovinetta la giovane va mi pare al British Library a Londra a studiare e scopre l'esistenza di una di una scrittrice e questo vi leggo un momento questa cosa per dice una scrittrice appassionata di Bronte molto simile a Solina Sdonghi instaura una complicità con una giovane Silvia che progetta una tesi su Anne superando via via la diffidenza per la sua presunta eccessiva religiosità e morigeratezza e le due si scervellano con i sé se Anne non fosse prematuramente scomparsa quale sarebbe stato il suo destino quali i suoi libri la narratrice trovandosi casualmente in una cittadina francese scopre nella biblioteca pubblica una certa Madame Gerard che ha scritto per giovani il racconto La Chambre Ensoleillée Ensoleillée cioè la camera assolata incuriosita chiede a Silvia nel frattempo trasferita in Inghilterra di fare delle ricerche sul conto di questa Madame Gerard salta fuori che questa Gerard si chiamava Anne senza la E e aveva sposato un francese e che il suo nome da ragazza era Branty con la Y che in realtà era il nome vero del papà delle Bronte si chiamava Branty ma poi lo cambiò in Bronte dunque Anne poté dunque l'idea è che in qualche modo Anne non è morta come si pensa a trent'anni ma ha continuato a vivere a scrivere e allora questo sono appunto i giochi fantastici divertiti e non drammatici che hanno intrigato Solina Sdonghi da quando era bambina fino agli ultimi anni per cui io concludo che il lettore può così gustare pienamente una visione del mondo dalla felice maturità e per cui questa mi pare significativo questo titolo la chambre en soleillée cioè la camera al sole la camera che mi pare definisce molto bene la scrittura no? di questo mondo così pieno di luce di Petri Cessorina Sdonghi grazie grazie abbiamo visto ancora un ulteriore capitolo dei vari del continente Sdonghi perché appunto ci sono vari aspetti e ora l'ultima relazione che ci intriga molto perché è quella che diciamo la professoressa Lucilla Lioi che è dottore di ricerca che ha pubblicato un fondamentale volume su Alberto Savinio che ha vinto anche un premio della critica Marino Moretti a Cesenatico e che è studioso soprattutto della letteratura degli anni del fascismo e grazie appunto a così a una borsa dell'Accademia ha fatto una prima esplorazione sull'ascito Donghi custodito a Serra Ricò di cui ci ha parlato in apertura Tommaso Ricchini do la parola alla professoressa Lioi per il suo intervento ah per indicare ok buonasera si sente si ok allora intanto io prima di cominciare desidero ringraziare Anna e Marina Solina Sdonghi Tommaso Ricchini Marina Baglietto e Ornella Ferrero della biblioteca di Serra Ricò per la pazienza la cortesia e la disponibilità che hanno dimostrato nel corso di questa mia ricerca come è stato anticipato io stasera vi descriverò vi illustrerò quello che è il lascito Beatrice Solina Sdonghi un lascito pubblico quindi aperto alla cittadinanza conservato presso la biblioteca di di Serra Ricò ma prima di entrare nel vivo della presentazione desidero mostrarvi un fotogramma tratto da una video intervista che Solina Sdonghi nel 1991 ha rilasciato a Stefano Verdino e vi invito a osservare appunto l'atmosfera allo stesso tempo cordiale elegante colloquiale e raffinata nella quale si svolge questa intervista e a sinistra la scrittrice vi invito a notare la libreria azzurra ora perché ho deciso di introdurre la presentazione con questo fotogramma perché proprio l'atmosfera che si respira da questa intervista è la stessa che è stata riprodotta all'interno della stanza che all'interno della biblioteca custodisce il lascito ho voluto citare anche se scopro appunto che non era particolarmente amata da Solina Sdonghi un parafrasare il titolo di un noto saggio della Wolf una stanza tutta per pacqui ecco perché è così effettivamente il il lascito non è una stanza ma è un luogo di memoria un luogo di memoria nel quale si concretizza la volontà testamentaria dell'autrice che in degli appunti autobiografici che ho potuto leggere quando mi sono recata sul posto ha scritto ho sempre desiderato sparire lasciando il minimo possibile di tracce a parte i miei libri pubblicati ed ecco che il lascito davvero rende effettiva questo desiderio e chiaramente all'interno dell'ascito è possibile ammirare spogliare leggere tutte quelle che sono tutte quelle che sono le pubblicazioni di Solina Sdonghi naturalmente qui non potevo presentarvele tutte ho optato per la prima edizione dell'estate la menzogna del 59 passando per l'uomo fedele già citati entrambi con selezionato appunto tra i finalisti del campiello per arrivare a uno degli ultimi libri una scatola di latta celeste che è del 2007 però il il lascito non è semplicemente una la riproduzione di una stanza diciamo così di una biblioteca ma è molto di più perché all'interno dell'ascito come ho potuto anche personalmente fare grazie alla testimonianza attiva e presente di Anna Solinas il lascito è anche la possibilità di ricostruire la storia della famiglia di Solinas Sdonghi e soprattutto c'è la storia anche dei suoi genitori nella fattispecie è possibile ammirare alcuni quadri di Eileen Donghi madre di Beatrice nonché appunto stimata pittrice e qui ho vi presento appunto l'acquerello che rappresenta Villa Negrotto già citata presso la quale nel 23 appunto Solinas Donghi è nata in realtà quasi per caso perché i genitori soggiornarono lì per qualche tempo nell'attesa che fosse pronta la casa che poi avrebbe ospitato l'infanzia di Beatrice e l'escorso diciamo attraverso la memoria di Eileen Donghi è possibile anche grazie ad un'altra serie di quadri che rappresentano la piccola pacchetta appunto ne ho selezionati in questo caso due pacchetto con giornale del 24 e siesta del 23 la mia attenzione nei confronti degli oggetti è un'attenzione voluta non soltanto per il valore naturalmente artistico che questi ricoprono ma perché in generale la presenza degli oggetti nella narrativa di Solina Donghi ha un ruolo fondamentale gli oggetti si caricano di un importante valore affettivo al quale lei stessa si mostrava attenta come ha dimostrato in una intervista comparsa sulla fiera letteraria del 1972 in cui l'intervistatrice Lilli Cavassa fa notare a Beatrice che nei suoi libri c'è aria di Liguria in molti sensi anzitutto nell'amore per le piccole cose che stanno in casa da secoli la Liguria lei l'avrà notato dice l'intervistatrice da assai poco a quello che si chiama il piccolo antico ariato perché la gente si affeziona alla sua roba quella di casa di padre in figlio lei ama questi oggetti familiari queste cose in effetti Solina Sdonchi risponde è vero del resto io ho notato che nei quadri di Luca Cambiaso ci sono queste cosette la candelina nel candeliere la gabbia il cesto piccole cose e allora mi sono detta allora non è una cosa tanto nuova e tanto provvisoria è una cosa che ha profonde radici per noi e vi ho messo appunto dei disegni di Luca Cambiaso che riproducono cioè che pur avendo come oggetto immagini sacre in realtà insistono sulla quotidianità la ferialità e dell'atmosfera e quali oggetti quindi ci sono all'interno dell'ascito beh vi ho già parlato vi ho già citato l'armadio azzurro ci sono degli oggetti che testimoniano chiaramente la carriera anche se lei non amava particolarmente questo termine per alludere alla sua produzione artistica la targa finalista la targa del con cui appunto venne indicato tra i finalisti l'uomo fedele nel 65 e mi piaceva ricordare in questa sede la fronda d'oro che viene attribuita ai liguri che abbiano dato lustro alla nostra terra nel corso nel corso degli anni ovviamente questi non sono oggetti quotidiani ma sono oggetti eccezionali che però all'interno dell'ascito appunto testimoniano la conferiscono appunto all'ascito un'atmosfera allo stesso tempo quotidiana e solenne ecco ma i veri protagonisti chiaramente sono i libri ci sono i libri di Solina Sdonghi nel senso che li possedeva erano i suoi e quindi le sue letture e i libri scritti da Solina Sdonghi e io qui vi ho selezionato appunto il frontespizio dell'estate della menzogna appunto del 59 il primo libro per adulti perché appunto scopro anch'io stasera dell'edizione del 45 del Natale per i piccoli che è dedicato alla mia famiglia che mi ha che mi lascia tanto scrivere Pacuimam e anche questo ovviamente è una testimonianza fondamentale perché è importante capire anche come lavoravano queste scrittrici che appunto chiaramente lavoravano tra un'incombenza domestica e l'altra e ho avuto modo anche di potermi cioè Anna Solina mi ha raccontato anche in che modo l'importanza della sua sedia della sua palcidia appunto potesse avvenire questo questo lavoro e andiamo però adesso un po' più nel nel dettaglio e parliamo di quelle che sono le carte dell'ascito Beatrice Solina Sdonghi io ho immaginato che si possano aprire diciamo dei cassetti all'interno di questo luogo e ciascuno dei cassetti trovare un tassello della produzione e questo aspetto è veramente importante perché anche rifacendoci a quanto abbiamo detto nel corso di questo pomeriggio è importante nel caso di Solina Sdonghi avere una visione di insieme una visione complessiva sinottica di quello che è stato il suo lavoro questi cassetti sono in realtà parte integrante di un unico un unico mobile diciamo così perché non c'è come faceva notare Carlaida Salviati una una separazione tra la narrativa per ragazze e la narrativa per adulti né è un'altra la Beatrice Solina Sdonghi che scrive critica cioè il lascito proprio concretizza questo questa sua attività molteplice varia e lo e permette allo studioso proprio di avere un colpo d'occhio in un certo senso nel e questo è confermato anche da da Solina Sdonghi stessa in quegli appunti che appunto vi ho citato in apertura che sono del 2009 lei scrive per la grande maggioranza dei miei critici tutta la mia produzione per ragazzi in particolare per le ragazzine è come se non esistesse per converso quei pochi che per dovere d'ufficio si occupano di narrativa giovanile di rado fanno il collegamento con le opere destinate a un pubblico adulto non parliamo dei lavori di saggistica la fiaba come racconto Emily Bronte di qua della leggenda quelli restano fuori da ogni computo semplicemente non esistono ora ovviamente stasera abbiamo anche dimostrato che questo non è vero e che la critica è attenta ai vari aspetti della produzione però il lascito permette appunto di avere una visione di insieme e di potersi muovere appunto agevolmente tra i vari cassetti in un colpo solo il primo cassetto è molto tenero secondo me è il cassetto degli esordi quando aveva nel 1934 quindi quando aveva 11 anni Beatrice con il fratello Lorenzo ha dato vita a un annuale di fido un giornalino scritto completamente da lei e dal fratello illustrato con dei giochi delle storie insomma qui ci sono proprio gli esordi della scrittrice in erba nel secondo cassetto invece ci sono le lettere e qui ci sono tre scomparti 21 lettere di o su pacchette datate a partire dal 26 20 lettere di Jack Dong alla figlia di anni cruciali 42-44 qui bisognerebbe aprire un'altra stanza ma non c'è il tempo di farlo e poi 29 lettere a Beatrice da vari mittenti del mondo letterario Anna Banti Calvino già citato Caproni e Bianca Pizzorno e anche qua i mittenti ci fanno capire come lei fosse al centro di interlocuzioni con tutto il mondo della cultura letteraria italiana e l'infanzia e gli adulti con il trait d'union naturalmente rappresentato da Calvino tra le lettere ho selezionato una la prima tra le lettere più antiche è quella appunto di Anna Banti che nell'ottobre 56 quindi poco prima che venisse pubblicato su Paragone il primo racconto l'estate della menzogna che poi avrebbe sarebbe confluito nel volume le scrive riconoscendo la sua vocazione di narratore mi sembra giustificata e il risultato ottenuto assai solido Anna Banti dicevamo prima sarebbe stata la madrina appunto di Solina Sdonghi scrivendo la prefazione all'estate della menzogna cosa che appunto viene confermata da questa da questa lettera sempre di Anna Banti che scrive cara Beatrice Feltrinelli nella fattispecie Bassani che dirigeva la collana dei contemporanei mi ha chiesto di scrivere la presentazione al tuo prossimo libro ho accettato tra gli altri interlocutori a me preme in particolare sottolineare che il rapporto con Giorgio Caproni sia per il legame con la Liguria sia per la la possibilità appunto di di poter godere di un'interlocuzione tra due personaggi così così rilevanti allora Caproni da poeta apprezza senza nessun problema e con lo stesso incanto sia le le fiabe incatenate sia lo vedremo poi le le voci incrociate Caproni scrive le sue favole beh è fiabe però perdoniamo le sue favole incatenate mi hanno incantato e anche ripulito dall'intossicazione procuratami da tante letture forzate vi riconosco intatto lo stile così raro e chiaro in tutti i sensi che già mi colpì nelle sue opere per grandi ora Caproni che usa l'aggettivo chiaro e intatto per alludere allo stile di Solina Sdonghi non è una cosa non rilevante perché Caproni è il poeta delle rime chiare il poeta delle rime ventilate quelle che dedica alla madre Annina e quindi riconoscere in questo nello stile di Solina Sdonghi la sobrietà e la riosità e nello stesso tempo la delicatezza non è una nota critica da poco e ancora Caproni apprezza quando esce il libro Le voci incrociate che abbiamo citato solo di sfuggita nel corso di questa di questa serata ma che per Caproni e poi per Solina Sdonghi stessa è ovviamente prima per Solina Sdonghi stessa e poi per Caproni è uno dei dei libri più autentici della della scrittrice Caproni riconosce il segno della scrittrice di razza e gli sembra che le voci incrociate siano il romanzo più suo quello che lei appunto doveva scrivere e Caproni ne scriverà lo vedremo a breve una bellissima recensione sulla sulla nazione abbiamo poi Calvino sul quale allora a questo punto vado un po' più velocemente perché ne abbiamo già parlato nell'intervento del professor Boero la lettera che vi avevo proposto è la stessa appunto citata dal professore quindi Calvino riconosce in Solina Sdonghi rara intelligenza erudizione e preparazione considerandola quasi un'epigona rispetto all'operazione da Calvino stesso effettuata con le fiabe italiane un altro cassetto è invece quello delle recensioni ai libri di Beatrice e Solina Sdonghi anche qui nomi già fatti spagnoletti aggiungo Faggi Caproni Bo Pampaloni Barberi Squarotti quindi è possibile ripercorrere anche la storia dei libri di Solina Sdonghi attraverso le recensioni vi avevo selezionato quella di Vico Faggi ma appunto vediamo quella di Caproni alle voci incrociate pubblicata sulla nazione Caproni dice questo è senz'altro il suo libro per eccellenza quello dove più perfettamente è riuscita a mettere a fuoco tutte intere le sue aspirazioni che non sono è risaputo di scrittrice autobiografica bensì sempre in perfetto equilibrio tra storia e favola di inventrice di verità di una verità nelle sue incantevoli sfumature pastello e nei toni un poco polverosi come le campagne ad una volta o giallini come certe vecchie fotografie più vere del vero come sempre la verità della poesia raggiunta una verità al quadrato ora non possiamo leggerla tutta perché il tempo non c'è ma agli atti rimando la pubblicazione complessiva e vi dicevo Solina Sdonghi ha apprezzato senz'altro questa recensione di Caproni perché nel 2009 avrebbe scritto proprio quasi con ramarico del fatto che le voci incrociate non hanno avuto lo stesso successo gli stessi riconoscimenti che invece aveva avuto ovviamente giustamente l'uomo fedele e dice tanti altri libri hanno vinto dei libri dei premi sono stati apprezzati mi rincresce un po' che non ne abbia avute le voci incrociate il mio preferito di quegli anni mi sembra migliore in quanto più originale e complesso dell'uomo fedele di cui alcuni servono ancora memoria fino a domandarmi perché non mi dia da fare per farne uscire un'altra edizione le voci incrociate invece chi se le ricorda più e quindi questo vuole essere anche un invito a ricordarle e rivalutarle altro cassetto invece le recensioni di Beatrice Solina Sdonghi ai libri del prossimo qui si tratta per lo più di recensioni a libri per l'infanzia che lei approccia con la lacume critico di cui abbiamo parlato più volte questa sera qui vi ho selezionato alcuni nomi in particolare in mondo incantato uso importanza significati psicanalitici delle fiabe in cui Solina Sdonghi riprende quella teoria già affrontata prima negli interventi precedenti per cui la fiaba è un racconto e non deve essere eccessivamente appesantita dalla sovrainterpretazione in senso psicanalitico ne ho selezionata una su un libro per l'infanzia cioè su una scusate una rienterpretazione di Cappuccetto Rosso con delle illustrazioni che quando uscirono nell'84 suscitarono molto scalpore per la perché erano pensate quasi più per adulti che per bambini e andavano a sdoganare e slatentizzare i significati più scabrosi della fiaba e sul quale appunto lei si intrattiene con estrema intelligente altro cassetto invece gli articoli di costume di attualità per lo più pubblicati sulla stampa o sul secolo qui ovviamente di nuovo non c'è il tempo di fare una rassegna completa però ci terrei a isolare due aspetti che rendono la voce di Beatrice ancora estremamente attuale intanto l'attenzione ecologista ai temi del paesaggio e il cambiamento del paesaggio per via della reiterata scomparsa delle lucciole per citare il noto articolo di Pasolini per cui lei qui nota che il mondo e la cultura delle ville genovesi ormai non esiste più la Liguria che avrei voluto salvare non esiste più da tempo è il paesaggio delle ville sovvertito ed esolato come tante altre campagne dal progresso rampante del dopoguerra e del boom economico la foto che vedete è l'attuale stato se mi confermate di più o meno ancora peggio di Palazzo Negrotto Cambiaso ecco allora è ancora peggio mi dispiace quindi e l'altro tema è quello anche questo già emerso dalla relazione di Carla Ida Salviati è l'attenzione non al femminismo perché sarebbe sbagliato da accostare alla sua voce ma al femminile per cui ritorno ad esempio sul tema di Cenerentola Cenerentola non più come donna oggetto non più come emblema di passività o di bontà incontaminata ma come donna energica capace di assumersi le sue responsabilità scappare di casa per andare a ballare la notte altro cassetto i saggi di critica letteraria c'è proprio uno scaffale dedicato alla raccolta in cui sono conservati tutti quasi tutti i saggi che Solina Sdonghi ha pubblicato sulle riviste specialistiche come Leggi Argomenti o come Andersen e sono già stati citati i saggi di critica sulla Elcott e sulla biblioteca dei miei ragazzi e sulle Bronti vorrei aggiungere i saggi su Lucy Maud Montgomery l'autrice di Anna dei Capelli Rossi e di Emily parentesi che non c'entra assolutamente niente sono i miei libri preferiti di quando ero piccola tutti questi per cui compresa la biblioteca dei miei ragazzi che avevo in casa perché mio padre era appassionato e quindi li ho letti tutti e sulla Montgomery c'è proprio due saggi autobiografici che ricalcano un po' lo stile dei saggi sulle Bronti e che raccontano appunto la storia della Montgomery imprigionata in un matrimonio infelice e quasi costretta ad aggiungere storie alle vicende di Anna dei Capelli Rossi e anche questo andrebbe riscoperto ristudiato e ripubblicato ci sono ancora due o tre cassetti ma andrò velocemente uno quello dei contratti dei contratti carteggi con gli editori che di nuovo ci fa capire come lei abbia lavorato con tutti gli editori più importanti dell'epoca da Feltrinelli Rizzoli Bompiani per l'infanzia e per gli adulti anche qui Carlaida Salviati ce lo faceva giustamente notare e poi c'è un cassetto interessante che è il cassetto degli inediti dove sono presenti appunto gli appunti autobiografici che vi ho citato queste sono nove pagine quindi significative ma non corpose due romanzi inediti e tre racconti inediti su cui si potrebbe esercitare spero la critica ed eventualmente appunto la possibilità di poterli dare alle stampe un giorno per concludere concludo appunto con le parole di Beatrice con le quali appunto ci invito a visitare in lascito appunto e a prendere in considerazione questa scrittrice nella sua complessità e nella sua varietà per concludere questa rapida e incompleta ricapitolazione aggiungo solo che i miei libri se non altro sono stati molto vari me lo dico da me non risultandomi che lo dicano altri il motivo potrebbe essere che nessuno se ne sia accorto dato che i libri per ragazzi o tanto peggio bambini notoriamente non contano qual è il critico pronto a prendere in considerazione tutte e due i filoni dedicando a entrambi il medesimo livello di attenzione vedremo se ce ne sarà uno quindi grazie mille grazie per per questo intervento siamo alle conclusioni e mi pare appunto la relazione di di Lucilia Lioi ha dato un quadro sintetico ma molto esauriente del tesoro che è custodito a Serra Ricò di tra di immagini i documenti i testi inediti eccetera e indubbiamente questo è il nostro pomeriggio è un primo quadro di quello che sarebbe da fare più organicamente su su questa importante scrittrice e c'era l'editore Merli in in sala l'editore Erga forse no no niente perché vorrevo appunto allora niente per chiudere c'è ancora un altro aspetto che non si è stato trattato e sono le poesie che sono pochissime di di Camilla di 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 Pachi come dicevamo una di questa una di questa è che si intitola canzonetta per un congede ed era la prediletta del mio professore di Franco Croce che tra l'altro era grande stimatore di lei Massimo Vacigalupo conosce bene quel film dove è Massimo che era regista c'è un film un breve documentario in cui degli anni 80 no così anni 80 mi pare che è molto interessante sarebbe interessante giusto che se la ricone potessi avere una cosa perché è un film in cui si vede Pachi in giro per Genova ci sono intervistati lui e Franco Croce no mi pare si ma no si 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 e ci sono alcune immagini caratteristiche che poi mostrano tanti personaggi di quel tempo per cui è un po' un viaggio nel passato anche questo film non del tutto riuscito mentre come Verdino non ricorda ma lui appare appunto in quelle due interviste di cui abbiamo visto un'immagine che infatti sono invece piuttosto ampie e forniscono veramente un autoritratto il film era appunto sì bizzarro ma era carino e sarebbe un documentario un documento da acquisire la canzonetta per un congede è questa perché è tanto del suo mondo e della sua poetica di questa sparizione di questo gusto del dettaglio che si ritrova addio caro mondo mio ti lascio in eredità se non ti guardo più io altri ti guarderà li veda chi li vuole albero e me la cerba luce di luna e di sole e il colore dell'erba anticipando il congedo lo si dà a cuor leggero sarebbe più triste credo se ti lasciassi davvero lo guardi che saprà vedere il disegno delicato che replica sul tagliere lo zucchino sezionato bellissimo mondo addio nel congedo non provo pietà se non ci sarà se non sarai più mio ci sarà chi ti amerà mammerà le zampini a stele del geco forse no gli piacerà la raganella e se no io non lo saprò finché sono composmenti qui si lascia a chi li voglia novanti e più elementi e il fiore con la foglia sassi onde del mare giorno e notte profonda a te non mi resta che dare l'addio bellissimo mondo non ci rivedremo mai ma so che non ti mancherò e tu non mi mancherai perché non ci sarò grazie grazie a tutti grazie a tutti